Si chiamerà V-Park, ma il nome è ancora suscettibile di integrazioni in vista di auspicabili operazioni di marketing da affiancare. Un nome che identifica il nascente centro sportivo di Villa Fastigi che ha superato gli impacci di lentezza burocratica che hanno zavorrato nell'ultimo biennio la partenza del partenariato pubblico-privato. Da alcuni mesi l'area è andata infatti via via cantierizzandosi per una grande opera di infrastruttura sportiva ragionata sull'asse Vispesero, Comune e Matigroup. Uno stato di lavori ben avviato che oggi si è pure tolto i veli presentandosi in municipio ad una incuriosita pesero sportiva. Progetto presentato in primis da Mauro Bosco nella duplice veste di presidente della Matigroup che ha investito nel progetto destinato a rivoluzionare la prospettiva del calcio giovanile sul territorio, nonché presidenti di una Vispesero diretta destinataria del suo nuovo quartier generale. E oggi appunto vorremmo condividere il progetto con la città, dimostrare alla città lo stato dell'arte, quindi quello che stavamo facendo, il termine di finitura dei lavori, l'avanzamento attuale sui vari fronti di lavoro, proprio per far vedere che non è solo quella che era un'idea che spesso, almeno così avviene nel calcio, nell'infrastruttura sportiva, l'idea o il progetto spesso si accantona, proprio perché il partenariato è una macchina complessa che se non la sai guidare bene non parte neanche. Qui a Pesa invece siamo riusciti a farla partire, a farla partire bene e finalmente si cominciano a vedere i risultati e presto completeremo l'infrastruttura. In comune la presentazione del progetto è stata applaudita dal sindaco Matteo Ricci e dall'assessore allo sport Mila della Dora con i referenti di Matigroup, Riccardo Delbianco e Luca Casadio, che hanno illustrato stato d'avanzamento dei lavori e rendering progettuale che vedrà intervenire su una restesa di 21.000 m2 per la realizzazione di due campi da calcio a 11, la riqualificazione della vecchia tribuna, la rigenerazione e adeguamento del campo di calcio a 5. E ancora la nascita di tre campi da paddle, due coperti e uno scoperto, la realizzazione di uffici, spogliatoi, di un bistrò e pure di un'area giochi. Un centro sportivo che diventerà il punto di riferimento della Vispesaro con Bosco che ha detto a chiare lettere l'ambizioso macro-obiettivo, disporre di una struttura di eccellenza nazionale in grado di interrompere la migrazione del giovane talento pesarese fuori città, anzi di creare una pil tale da programmare la migrazione inversa. Sottolineo ancora una volta il valore sociale di quello che stiamo facendo, il partenato pubblico privato vuol dire proprio quello, noi stiamo facendo un investimento privato, quindi io personalmente sto investendo in un territorio di cui non sono proprietario, è di proprietà del comune, lo sarà sempre di proprietà del comune e io semplicemente gestirò questa infrastruttura però restituendola poi dopo i termini di concessione alla comunità, alla collettività. Quindi credo che sia di una valenza sociale veramente importante.